Raga, oggi ho avuto un'idea veramente, veramente incredibile, più che idea è una cosa assurda perché fare una cosa del genere all'interno del gioco è da pazzi, ma lì, a Cetebro lo sai bene Praticamente attraverso un programma, cos'è successo? Esploso tutto, ok, il programma sarebbe questo qua, posso limitare la banda di internet relativa ad un programma, in questo caso a Fortnite Quindi praticamente in poche parole io posso aumentare il ping di Fortnite, il che diciamo non è una bella cosa Perciò oggi andremo a vedere che cosa si prova a giocare a Fortnite con circa 1000 di ping, cioè un secondo di ritardo Praticamente quello che io faccio gli altri giocatori lo vedono un secondo dopo, e stessa cosa io vedo dopo quello che fanno gli altri giocatori Io raga vi ricordo 20.000 like se volete un'altra sfida del genere e mi raccomando se ne volete un'altra dovete assolutamente inserire il codice supporto cap nei negozi oggetti Perché al raggiungimento di 170.000 supportatori vi portano una delle sfide più belle che abbia mai provato Perciò 170.000 supportatori della sfida, quindi mi raccomando codice cap nei negozi oggetti in basso lezza supporto a un creatore Condividetelo con tutti i vostri amici e proviamo appunto ad arrivarsi Ah vi ricordo che l'obiettivo finale sono i 200.000 supportatori, al momento si è circa 160.000 A 200.000 supportatori vi ripeto farò il tour completo di tutta la mia stanza, dove registro, dove edito, dove faccio le live Sì perché le live le faccio sul secondo canale, link in descrizione Ah e mi raccomando raga non dimenticate di iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina E ovviamente non vi dimenticate di Instagram, molto molto importante raga, obiettivo 100.000 follower, siamo vicinissimi Mi raccomando datemi seguire adesso, mi chiamo Capitan Blazer ufficial Detto questo, let's go Ok bro, te sei pronto? Prontissimo Io no, per niente Ok, mettiamoci pronti, al momento non ho attivato il coso, quello che mi limita la banda Quindi ovviamente per entrare nel server non laggerò, come entro lo attivo e voglio vedere che cosa succede Ok, Fortnite sta caricando, se lo attivo adesso ho provato con la partita di prima Che se lo attivo adesso mi ci mette tipo 18 ore a caricare, ok Pronto bro, 3, 2, 1, ho attivato Per ora sto pingando 31, ora 134, ora 400, 600 Bro, ho 1053 di ping No bro, ho 1100, no bro, no bro, no bro Io non posso giocare in queste condizioni, aspetta Allora, aspetta un attimo Cambiamo, cambiamo, mettiamo 3.5kv al secondo, ok No, no, 35, 3, vabbè, sto programma proprio non capisce niente Bro, te soniglia sto programma Ok, facciamo una cosa, lo tengo disattivato finché non scendiamo dal battle bus Così almeno facciamo i lavori per bene Dove andiamo? Che ne dici? Palmetto, palmetto Palmetto, va bene, va bene, seguiamo bro Io raga, per farvi vedere meglio il ping Oh, oh, ma non mi fa scendere Bro, non posso scendere No, ho limitato, ho limitato, ho limitato Devo arrivare, ho limitato Oh mio Dio Cioè, raga, per farvi capire cosa succede quando attivo sto programma Comunque, vi ho allargato il ping Così in questo modo lo dovreste vedere meglio E capite in che situazione siamo adesso Una situazione da molto bella Allora bro, io vedo parecchie persone a palmetto Questa cosa non mi piace per niente Eh, facciamo una cosa Vado nell'ultima casa a sinistra Ok, anzi, se riesco sarebbe bello per vendere questa cesta Bro, son troppi Ma son troppi, ma che cavolo è Io non posso andare in mezzo alla massa con tutto sto ping Allora, pronti raga Riattivo il programma tra 3, 2, 1 Attiviamo il programma Quanto ping ho al momento? 24, ok 24 finché non inizio a sparare e non inizio a fare cose Quindi, finché non iniziamo a fare cose per cui potrebbero dotarci Il ping diciamo che è abbastanza stabile Rompiamo gli alberi È ancora stabile, ok Strana questa cosa perché dovrebbe iniziare a peggiorare adesso Facciamo una cosa Mettiamo regole un pochettino diverse Allora, 7 Qua metto 8 Dovrebbe già iniziare a pingare di più Bro, a me non mi cambiarmi No, vabbè, ho 500 No, bro, no, no, no Raga Raga, aspettate, aspettate Rimettiamo come prima Scherzavo, era un scherzo Ok, 500 di ping Ora, diciamo che è già più fattibile 350 Perché varia da 56 a 3000? Allora, bro, aspetta Io in questo momento Diciamo che non sono così utile come potrei essere normalmente Perché normalmente non sono utilissime, però Vieni da me, c'hai un'arma? Eh, sì Diciamo che al momento pingo decentemente Però, raga, quel ping che vedete Non è vero, fidatevi 40, 40, ok No, al momento invece sì Al momento sto pingando recentemente A volte il gioco svariona e mi manda mille di ping Bro, se sente da me Io sinceramente rifai danni questa cosa Ok, ce la sto facendo lo stesso Ce l'ho fatta lo stesso, bro L'ho killato Ma, ok, al momento Oh mio Dio Dai Oh cavolo, raga No, non mi fa prendere le armi, bro Non posso prendere No, bro, no, no No, bro, se vabbè, raga Se vabbè, io come faccio? No, non posso cambiare arma No, no Questo mi ammazza, questo mi ammazza Ok Bro, non posso sparargli Ho il piccone, sì Ok, io ho sparato No, ma come? Sono morto, non ho capito Ma cosa è successo? Ok, bro Diciamo che non era proprio il massimo, ecco Questa volta cerco di farmi abbassare leggermente meno il ping Però, raga, come vedete, varia troppo Ce ne se so Ci sono momenti in cui ti arriva a 2000 di ping Perché oltre 1100 il gioco non lo segna Ma in realtà sei tipo a 2000 di ping E a volte in cui invece è normale Il problema è che indubitate quali sono le volte in cui il ping aumenta Esatto, quando siamo in fight Questo qui diciamo che non è un piccolo problema Dove andiamo, bro? Che ne dici di condotto Ti buono, buro buono, esatto Vai, vai Vai, io attivo subito il programma Allora, io perché devo fare queste sfide? Perché il mio gioco è già a 1000 di ping Ma non è giusta sta cosa Ma guarda quanto cavolo lagga, oh Adesso sono 724, ok Dipende ovviamente quanta banda usa Fortnite A volte, vedete, diventa 24 E a volte diventa 1000 E il problema è che, vi ripeto, 1000 diventa solo nelle situazioni più scomode Allora, bro, qua c'è una macchinetta Ed è una bella cosa Hai visto qualcuno? Perché... Ok, sì, c'è evidente... C'è evidentemente qualcuno Ok, al momento il mio gioco sta andando decentemente Tranquillo che ti salvo io, bro Figurati, con 1000 di ping È la prima cosa che faccio Allora, dov'è la gente? È tutti da me Per ora 23 di ping Quindi la cosa, diciamo che sta andando abbastanza bene Eccolo Ma qua c'è una terra Ok, chi è lato? No, bro, non posso perdere Oh mio Dio, ve l'ho detto, regà Ve l'ho detto, regà Che poi il ping inizia a aumentare Perché sto al pompa in mano e sto ricaricando lo scar? Io devo star fermo per mezz'ora prima che il gioco mi si riprenda Comunque, per chi non sapesse cos'è il ping In questo momento sta sentendo tutti questi termini tecnici, tra virgolette Il ping è il tempo che ci mette il gioco a collegarsi al server Sto notando Stai correndo sul posto Ah, beh, divertente Stai cambiando l'armi da sole Si muove, ok Aspetta, leviamo un attimo il programma Facciamo stabilizzare la connessione Ok, ora Ora, ora va molto meglio, perfetto Questo, raga, è come giocare io normalmente, vedete Tutto fluido, tutto liscio, nessun problema 18 di ping, addirittura Questo, quindi, è come gioco normalmente Adesso riattiviamo il programma Iniziamo a fare, tipo, un po' di edit, così, a caso Vediamo se cambia qualcosa Di solito, raga, pesa molto quando, tipo, switcho le armi E quando killo le persone No, raga, no, raga Perché ogni volta che colpisco gli alberi Sempre la stessa cosa Bro, mi dai un po' di materialità, per favore Perché ogni... Io non posso colpire gli alberi, ho capito? Ah, io sto piccolando Aspetta un attimo Ok, vai, ti aspetta qualcosa con la deagle in mano Allora, raga Il mio obiettivo sarebbe giocare più fermo possibile Perché io più sto fermo Meno pacchetti in bio server Quindi meno laggo, in teoria Cecchino è mio Cecchino è mio Bro, io non posso Non possono avere il cecchino oggi Possiamo arrivare anche la deagle Ma il cecchino io lo voglio La safe Lo so, la vedo, la vedo, la vedo Stai tra... Aspetta Non mi lagga adesso, eh Perché, raga, se mi lagga adesso con la safe È un po' un casino Bro, io ci sono, ci sono Aspetta che non mi prende, non mi prende, non mi prende No, ma ho preso, e vai Qua c'è una casa che non è lottata Ha un altro cildone E c'è una cesta che non è aperta Anche una zulp, vabbè, raga Ho trovato il santo graal Anche i cildini, ma cos'è? Mamma mia Bro, ha due cildoni No, bro, cos'è? No, bro, cos'è? Anche la zappa, cos'è sta casa? Bro, ho trovato un tesoro che te ne ho idea Hai ricevuto portare le bende? Per caso? Sul medikit Ok, vabbè, allora niente Dammi la zulp La zulp, to, tieni Comunque sì, ci sono un botto di pacchetti persi Aspetta, ho un'idea Vieni qua, facciamo un test Mettiti davanti a me, dove sei? Perfetto Scendi qua, scendi qua sotto Mettiti qua davanti a me Aspetta What? Ok, vai Ok, mettiti qua Ti è arrivato il colpo? Sì Ti è arrivato ora? Sì Ok, sicuramente alcuni colpi non partiranno proprio per questa cosa Guarda, per esempio, a volte tiro una picconata e non prende vita al muro No, 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 bro Perché quando piccolo No, bro, no, no, aspetta Piccolare è una cosa improponibile No, ho mille Ho di nuovo mille di pig Allora, bro, calma Calma Oddio No, raga No, eh Se va Se va Vabbè, proprio E io, tu pensi che io riesco a bin Eh, aspetta, eh Allora, aspetta che Aspetta Solta Non è una cosa facile, ok? Ok Eh, se vabbè, due volte poi Mi dovrei un attimino abbassare per non Eh, se, bro No, è una cosa improponibile giocare questo pig Devo un attimo far tranquillizzare la connessione Qua è tutto libero Non vedo nessuno Siamo ancora in 18 È strana sta cosa E dall'alto delle mie 26 kill Posso dirti che qua non c'è nessuno In verità ci stanno Solo che tu non li vedi Ma dove sono? Nord-ovest Nord-ovest Casetta piccola, vedi? No? Ah, ok Eh, vabbè, bro Non riesco a mirarli Sei! Il colpo non è partito Dai No, 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 no Stanno arrivando a ovest, ovest Ovest Ho preso Io ho fatto 100 Ok Gira di sulla sinistra Lo so, ho visto Solo che, bro Ti ripeto, non posso muovermi molto Ci inizio a build fightare Qua, qua è un casino, eh Ok, niente Niente Lancia razzi Ok Lancia razzi non mi fa raggare Stalmente Eh, adesso l'ho detta L'ho detta sicuro, guarda, eh Dai Abbiamo pure gente dietro Come gente dietro? Eh, sì Oh mio Dio, bro Dobbiamo andare, dobbiamo andare Una giampa, una giampa, una giampa Veloce Veloce, veloce Veloce Giampa, giampa, giampa Ok No, 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 no Mi han preso, mi han preso Fortuna che ho tre scudoni Mamma mia Dove sono questi? Eccoli Dai che Un colpo No Cavolo Non posso andare troppo a fortuna, regà Perché se mi sentono È un problema Eh, cavolo Ma ho visto No, bro Non puoi buildare in questo modo Questa, bro Hai fatto una cosa illegale Cioè, adesso dovrebbero bandirla Proprio dalle leggi italiane Quello che No, ma è saltato No Non ci posso credere Come ho fatto a non prendere questo Cioè, se lo prendevo In realtà era una cosa assurda, però Senza scudo quello nero, eh Ok, buono Buono, buono Io continuo No, bro Non sapevo di averlo scar in mano Eh, va bene Hai ragione Io continuo a distruggere il muro È l'unica cosa che posso fare Attualmente Bro, da dietro Bro, da dietro Eh, no, bro Eh Ma se, ma cosa Come ho fatto a morire Non ho capito Eh, bro Io sono Eh, eh Come faccio a seguirti Come è possibile Io sono in un punto Molto sicuro Ma dove? Ma lascia perdere Non lo so, bro Non so come sono morto Cioè, ho laggato tutto Ah, da laggiù Ok, eccoli Ma tutti un RPG Stamartita Eh, diciamo che non è il massimo Vai, bro Per favore Portacelo a casa In questo momento Ragazzi, lo posso nel canale Così non mi sente Perciò non gli do fastidio È in una situazione Non per niente facile, raga Se non sbaglio Ne ha due Che non so male Potrebbe essere un team Come due team Oh, cavolo Il problema è che questi qui Sanno a buildare tutti No, come Come ho fatto a vissarlo Bello questo 100 Vai Devi andare giù, bro Ti rompono tutto Quell'altro ha preso danno No, non penso Ma cosa What Raga, avete visto anche voi O non ha preso danni Ecco, io ancora ho Il coso che mi aumenta il ping Infatti non riuscirei a capire Molto bene Eh, raga Che cavolo è La vita gli sarà scatti No, ok È un mio problema questo What Allora non è il mio lag Ho appena disattivato il programma E continua a laggargli la vita Ok Penso che sia lag del gioco Una cosa del genere Bro, ci devi portare a casa Questa partita Portacelo a casa, cavolo No, da dietro No, bro No, no, no Eh, raga Come era prevedibile Vincere con 1000 di ping È impossibile Cioè È proprio una cosa impossibile Non sai da dove ti sparano Non puoi sparargli Non puoi difenderti Non puoi proteggerti Non puoi far tutto quello Che dovresti fare invece Detto questo, raga Vi ringrazio tantissimo La previsione Vi ricordo di raccomando Un bel like Se vi è piaciuta questa challenge Magari proveremo a rifarla in futuro Con una bella vittoria Anche se Su due partite Non abbiamo vinto nessuno E non siamo andati nemmeno tanto avanti Perciò È una cosa abbastanza infattibile Ovviamente non dimenticate Di iscrivervi al canale Attivando la campagna Per non perdere tutti i prossimi video E vi ricordo ovviamente Codice di supporto Cap dei negozi agenti Questa raga è molto molto importante Obiettivo 200.000 supportatori Ovviamente Instagram Captable Zero Officio Secondo canale Con state in iscrizione Se venite al canale di Bro E detto questo Sperate di tutto E noi ci vediamo in questo video Ciao 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 Ciao